Non c'era neanche un posto vuoto, martedì sera al concerto della Grande Orchestra Bagutti è andato in scena alle 21.30 all'Arena BCC di Fano. Un colpo d'occhio straordinario, quello offerto dal suggestivo teatro all'aperto che per l'occasione ha ospitato circa 1300 persone. L'evento ha superato le più rose aspettative, ha commentato il presidente della Proloquo Etienne Lucarelli. Vedere l'arena così piena in tripudio per un'orchestra di questa caratura è stato davvero emozionante. Gli artisti hanno scelto la città della fortuna per lanciare il tour nazionale Siamo l'Italia che Balla che vedrà protagoniste le cinque orchestre unite in concerti in tutto lo stivale. Un appuntamento anche di promozione poiché sono arrivati gruppi provenienti dall'Umbria, Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. Sono sicuro che i turisti, ha aggiunto il vicepresidente della Proloquo Bartolucci, prenderanno in considerazione Fanno come prossima meta per le vacanze estive. Eventi come questi sono fondamentali per far rimanere ai fanesi in città e per renderla sempre più appetibile a livello turistico.